Dopo Pescara nel 2020 e l'Aquila nel 2021, dopo un'intensissima Pride Week di eventi che ha toccato in questi giorni alcune località abruzzesi, sabato 25 giugno a Teramo si svolgerà per la prima volta in Abruzzo il corteo Tutto Arcol Baleno. Il coordinamento di Abruzzo Pride ricorda che si sfila per ogni persona che in questo momento non sente una comunità al proprio fianco, che si sente sola e non riesce a vedere il proprio futuro sereno. Si sfila per loro e per un Abruzzo sempre più forte, gentile ed orgoglioso. La Pride Week ha iniziato la sua transumanza a partire dal Gran Sasso, passando per l'Aquila, Chieti, Pescara, per concludersi a Teramo con il corteo del 25 giugno. L'organizzazione promette che il cielo della città verrà colorato con grandi arcobaleni dedicati alla comunità LGBT e alla lotta contro le discriminazioni. Il raduno è previsto alle ore 15.30 in Piazza Madonna delle Grazie a Teramo. Il carro dell'Abruzzo Pride sfilerà per le vie del centro storico e arriverà in Piazza Martiri alle 17 per un momento di riflessione politica. A condurre ci sarà la Drag Queen Nausicaa Vamp, presentatrice ufficiale per il terzo anno di fila della manifestazione. Subito dopo verrà data la parola alle associazioni e alle varie realtà aderenti, oltre 60 in tutta la regione. Il Comune di Teramo ha dato il suo patrocinio all'evento al quale parteciperà anche la Cigelle e l'Università. La serata sarà animata da un DJ set esplosivo e da vari gruppi musicali. Il coordinamento Abruzzo Pride invita tutte le persone a manifestare, con orgoglio e virtù, per un Abruzzo più inclusivo.